nuovissimo album in uscita oggi il brochet se sei curioso di scoprirlo insieme a me e vedere come fare a ricevere tantissimi prodotti regalo continuo a guardare ciao ragazze ben trovati benvenuti in questo nuovo video per chi non mi conosce io sono Cristina Valone come ogni volta che esce l'album mi trovate qui a sfogliarlo insieme oggi è un giorno speciale perché non è natale non sono travestita da barbo natale ma ho tante sorprese per voi perché avete la possibilità se ancora non avete aperto un codice di brochet ancora non avete fatto il vostro primo ordine di ricevere a casa queste bellissime box potete riceverle anche tutte e veramente sono meravigliose perché abbiamo tantissimi prodotti in offerta in queste box solari il monoi veramente bellissimo e abbiamo la borsa e la trusse in regalo e anche avete la possibilità di ricevere l'asciugamano l'asciugamano bellissimo che vi ho fatto vedere all'inizio del video quanto è bello e quanto è bella anche la borsa appunto e la trusse da avere assolutamente tutto il set è un set fantastico l'abbiamo utilizzato quando siamo andati a Vietri vi ho lasciato il blog questo è il nostro set mare bellissimo ragazzi è bellissimo fa la sua figura come set l'asciugamano è veramente morbidissimo la borsa super capiente vi ho fatto anche un video per farvi vedere quanto è capiente la borsa e la trusse veramente in pandan ci sta benissimo quindi se vuoi fare il tuo primo ordine scrivimi pure qui sotto questo video oppure scrivimi in privato che appunto così abbiamo la possibilità di fare il tuo primo ordine è un'offerta a tempo perché vale ancora per qualche giorno quindi vale solo fino al 29 di giugno 2023 ok quindi mi raccomando non perdere questa occasione se ancora devi fare il tuo primo ordine e aprire il codice libro mi raccomando scrivi qui sotto che ti appunto ti aiuterò io oppure scrivimi direttamente su WhatsApp bene iniziamo subito a sfogliare questo fantastico album carico di offerte eccoci qua si vede già da questa immagine che è un album speciale perché il Monoi compie 35 anni quindi ci sarà un'offerta speciale sul Monoi ma vediamo che anche c'è una pagina tutta dedicata ai sieri questa pagina è bellissima io mi perdere cioè mi perdo a leggere queste cose così qui ci sono proprio elencati anche tutti i principi attivi presenti appunto nella linea con il disegno infatti vedete che ci sono colori diversi perché è proprio il disegno del principio attivo all'interno del prodotto e ogni siero ovviamente è adatto a un tipo di pelle differente e ognuno di voi appunto ha bisogno di un siero diverso mi raccomando bisogna scegliere sempre il siero che fa al caso proprio perché così vediamo i risultati a lungo termine per vedere i risultati solitamente ci vogliono 30 giorni ma vi assicuro che se facciamo una detessione e una routine viso completa per 30 giorni il rinnovamento cellulare avviene appunto in 30 giorni vedrete sicuramente la differenza quindi l'importante è azzeccare e capire bene la propria tipologia di pelle e poi si va alla grande quindi meno 40% su ogni siero quindi se non utilizzate il siero questa è la volta giusta per iniziare a utilizzarlo guardate qui che prezzi ad esempio 22 euro 24 euro veramente super conveniente anche olio infuso di rosa 24,95 euro super conveniente poi crema viso con il contorno occhi scontato e anche qui un bello sconto 40% su ogni set quindi in questo modo avete la possibilità di fare la vostra routine completa con il siero la crema viso e il contorno occhi in formato speciale in regalo e veramente secondo me questo set è veramente molto bello perché avete appunto la possibilità guardate qui almeno 40% anche l'antich global la rich creme lifting vegetal e l'elixir botanique quindi veramente top super top mega wow come dico io Monoi come vi ho detto all'inizio il Monoi compie 35 anni e quindi come si fa a vivere senza Monoi io non lo so io vivo con il Monoi quindi mi piace tantissimo e vi faccio notare che appunto il vestitino del Monoi è cambiato ma ovviamente il prodotto all'interno è lo stesso questo qui è l'olio tradizionale nutriente per il corpo come è fatto il Monoi praticamente è l'olio di cocco lasciato dove abbiamo i fiorellini in tirè lasciati macerare all'interno dell'olio di cocco e così si forma appunto questa fantastica profumazione e viene utilizzato ad esempio l'olio tradizionale proprio per fare i massaggi proprio dalle donne italiane è un prodotto assolutamente tradizionale che viene utilizzato appunto sul luogo sul appunto lì e noi andiamo proprio a raccogliere i fiorellini proprio lì ok con il rispetto sia delle persone che lavorano sul luogo ma anche del territorio e quindi questa cosa trovo che sia meravigliosa e l'olio di Monoi non so se lo sapete ma solidifica al di sotto di 26 gradi perché appunto è naturale quindi solidifica al di sotto di 26 gradi se magari l'avete ordinato d'inverno perché comunque è possibile ordinarli sempre questi prodotti magari vi è arrivato solido e quindi adesso non è possibile col caldo che fa non è proprio possibile che veni di solido a parte se vi busite non so in un posto molto molto freddo ma non nell'Italia e quindi insomma si solidifica al di sotto di quella temperatura invece solitamente arriva appunto liquido e niente 35% ragazzi adesso in estate 35% super veramente poi abbiamo anche l'acqua profumata per il corpo fantastica io anche questo appunto la utilizzo poi scrub olio questa qui rende proprio la bronzatura super luminosa perché all'interno vedete questi puntini marroni sapete cosa sono? non lo sapete? per cui io sono i granelli di cocco sgrettolati all'interno e quindi rende proprio la pelle super luminosa e la texture è come se si sciogliesse sulla pelle si fonde proprio a una texture oleosa ricca che va proprio a nutrire la pelle quindi quando vi tornate dalla mare belle abbronzate con la stanza sedia tra i capelli fate un bello gommage così al monoi che è leggero non dovete pensare magari ah no ho preso il sole mi graffio non graffia ma è appunto diciamo leggero ma non vuol dire non efficace e non dovete neanche aver paura che vi si tolga la bronzatura anzi perché togliendo le cellule morte che sono al di sopra appunto dell'epidermi avete la possibilità proprio di far brillare ancora di più la vostra pelle e risulterà proprio una bronzatura più bella ok quindi non abbiate paura a utilizzare il gommage poi soprattutto questo qui a monoi che a parte il profumo lascia proprio la pelle idratata e bella luminosa poi e costa 8,42 euro shampoo doccio delicato 3,22 euro cioè questo è un prezzaccio ragazzi è un prezzaccio ma noi da questo prezzo qui cioè facciamo le scorta io ho già fatto scorta non so se avete visto il mio unboxing che ho preso tutti i prodotti per me avevo fatto scorta di questo e niente quindi ce ne ho già la scorta ma tra i 22 non posso non acquistarne ancora e farò la scorta ancora anche perché poi insomma l'estate ovviamente si consuma molto di più profumo 19,47 il profumo dell'estate è uno dei taiti buonissimo buonissimo poi crema mania profumo di monoi 3,22 gelizzante questo 2,57 euro veramente pochissimo almeno 35% ma i best i best sheller quali sono secondo voi proprio loro loro di decente corpo e capelli cioè raga a 9,72 questo meraviglioso e l'olio secco questo qui che va bene appunto per il corpo e per i capelli che a differenza dall'olio tradizionale che abbiamo visto prima questo è proprio da massaggio e invece l'olio secco sì ovviamente lo potete massaggiare però si assorbe veramente molto rapidamente e quindi insomma si addice meno ai massaggi ma ovviamente dipende dalla funzione che volete voi dalla tipologia di applicazione che preferite ma entrambi sono veramente super idratanti questo qui appunto si si vaporizza sul corpo e sui capelli e va proprio a nutrire in profondità anche l'altro si può utilizzare ovviamente sulle punte io lo utilizzo sulle punte per nutrire le mie punte poi il make up in estate cambia il mio make up è cambiato anche perché fa caldo quindi cosa facciamo? stendiamo l'illuminante ma non è un illuminante scusate il primer illuminante ma non dovete pensare che illumini il viso tipo faro nella notte ma rende la pelle luminosa che è diverso da illuminata nel senso che dà la possibilità alla pelle di essere uniformata uniforma all'incarnato e fa durare di più il make up che noi mettiamo il fondotinta magari che noi mettiamo di sopra e non lucida appunto la pelle quindi è veramente fantastica questa base fa in modo proprio di rendere la nostra base molto più sana molto più luminosa poi lo spray fissatore succo se noi non mettiamo il possiamo utilizzarlo anche se non mettiamo il make up perché appunto è anche anti luce blu e quindi questo vaporizzato sul viso va proprio a dare un effetto fissatore del make up ma anche appunto possiamo sfruttare come anti luce blu e secondo me questo lo dovrò utilizzare anche un po' questa estate per vedere se mi va a idratare durante la giornata il viso magari che si asciuga poi mascara intense metamorfose è 19,95 scontato invece di 22,95 e waterproof c'è anche la stilo occhi che è veramente fantastica non dimentichiamoci di stendere un vero di colore ombretto appunto light proof che ci sono in diversi colori che appunto ma d'estate io direi in questi due colori vanno benissimo di giorno secondo me sono i colori più belli e questa ragazza immagino lei abbia il rose nude mi piace assai molto molto bello poi un'altra offerta appunto di cui voglio parlare è dello stick illuminante che anche questo è assolutamente un prodotto di cui dobbiamo parlare perché è un prodotto super utile e anche facile da utilizzare d'estate veramente mi piace anche il profumo che ha buonissimo e se l'acquistate avete la possibilità di avere la terra almeno il 50% e la terra è veramente un prodotto che ovviamente non lo utilizzate solo d'estate ma secondo me illuminante terra mascara c'è un po' come sono truccata di oggi e rossetto e via d'estate con il primer ho messo anche sotto e basta per uniformare un po' l'incarnato poi il set ragazze guardate qui il set mascara e matita avete la possibilità di averlo sia in nero che in marrone a 19,95 prezzaccio anche questo poi il gloss rouge elixir gloss gloss a meno 30% quindi 9,95 questi ve li ho fatto vedere tutti indossati sulle labbra veramente bellissimi e poi cosa fanno per avere il telo mare in regalo il telo mare di cui vi ho parlato all'inizio ce l'ho qua vi ho parlato all'inizio e vi ho fatto vedere bellissimo veramente bellissimo morbidissimo telo mare cosa bisogna fare bisogna acquistare se non volete prendere appunto il set che vi ho fatto vedere all'inizio potete anche acquistare 30 euro di prodotti solari anche in questo caso se volete acquistare i prodotti solari e ricevere l'asciugamano a casa scrivetemi che possiamo appunto fare procedere con l'ordine guardate qui quante cose bellissime solari dopo sole protezione per il viso mi raccomando sia protezione per il viso solare ma anche dopo sole e appunto se acquistiamo 30 euro di prodotti solari abbiamo il telemare il regalo poi guardate qui meraviglia lo so io lo dico sempre che io lo amo questo set cosa devo fare lo amo 19.95 per 2 SOS Carité io lo uso per tantissime cose mi sbuccio SOS Carité mi si secca una parte del viso il corpo SOS Carité cambia pallonino un pochino arrossato SOS Carité veramente questo prodotto cioè è fantastico veramente meraviglioso bisogna averlo a casa assolutamente assolutamente crema mani 11.95 2 poi 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 abbiamo l'ultima offerta di cui voglio parlarvi ah no anzi dobbiamo parlare di questo set qua set che è un set viso specifico nuovo è una linea nuova ma non è tanto nuova perché appunto l'abbiamo già in gamma cioè la sebo pure vegetale e la sebo la sebo vegetale appunto fuse insieme e in questo caso abbiamo appunto questa linea che ha una nuova veste che abbiamo la sebo pur vegetale e la sebo vegetale insieme e in questo modo abbiamo la possibilità di avere 4 diversi prodotti con i principi attivi all'interno che vanno appunto bene perché ha una pelle mista e grassa all'interno abbiamo tè boreale e acido salicilico un po' vi parlerò troppo veloce e all'interno appunto ha questi due principi attivi 100% di origine vegetale e hanno la possibilità di hanno un potere astringente che va proprio a rimuovere e ridurre le imperfezioni ci tengo a precisare che oltre a la routine creme viso siero e creme anti imperfezioni dobbiamo necessariamente utilizzare un detergente adatto per la nostra pelle quindi nel caso abbiamo il viso misto e grasso andremo a utilizzare la detersione adatta ad esempio della pure mint e adesso vi faccio vedere anche un prodotto che è appena arrivato abbiamo trattamento mirato anti imperfezione SOS questo qui che va messo proprio la puntina dove c'è il brufolo trattamento idratante anti imperfezione questo è su tutto il viso siero riequilibrante questo è il siero che va messo prima ma poi guardate che bello questo colore veramente bellissimo e poi la crema per tutti il viso gel crema zero difetti ora vi sarete accorte che non c'è contorno occhi no vabbè ma allora che ha la pelle grassa non devo usare il contorno occhi no no è solo che ovviamente lo so che questo esteticamente è un contorno occhi quindi non vi eravate visivamente accorti che mancava qualcosa ma ve lo dico io perché questo è appunto il trattamento mirato e questo è la crema viso quindi no manca questo cosa vuol dire perché manca perché nel contorno occhi non potrà mai essere misto e grasso ok il contorno occhi solitamente è sempre sensibile o delicato e comunque è una zona del viso che è più sottile quindi non andremo ci sarà bisogno perché non non avremo imperfezioni nel contorno occhi e quindi in questo caso se avete invece bisogno di questa linea nel contorno occhi possiamo utilizzare o il contorno occhi della Hydra Vegetal che assolutamente va benissimo come contorno occhi super idratante o quello a fiore di aliso ma quello della Hydra Vegetal è anche scontato 12,95 quindi top oppure questo della Pure Blu che è molto idratante è molto fresco è bellissimo ma di questo prodotto voglio parlarvi prodotto detergente scrub e maschera veramente un prodotto 3 in 1 che è in arrivo cioè che è appena arrivato oggi arriva appunto Pure Mint o Pure Mint comunque lui con la visita nera praticamente è 3 in 1 cosa vuol dire possiamo utilizzarlo come detergente quindi come sapone volgarmente per detergere il viso come uso quotidiano come scrub quindi andare proprio a fare un'azione meccanica utilizzando appunto questo prodotto o come maschera cioè lasciandolo in posa lasciandolo in posa per 5 minuti e poi si risciacqua fino a 2 volte a settimana si può lasciare in posa lo stesso prodotto esatto con un prodotto potete fare queste 3 cose quindi veramente fantastico comprate un prodotto voi potete farvi la detenzione tutti i giorni se state lì un pochino a massaggiarvi il gommage e poi se lo lasciate in posa anche la maschera ok quindi io direi che è veramente un super un super prodotto e questo qui è un alleato contro le imperfezioni quindi se avete un viso con insomma un viso misto e grasso va benissimo e all'interno appunto ha carbone vegetale che va proprio a potere astringente e gli ingredienti sono di origine naturale il carbone è di origine vegetale fantastico beh ragazzi con questo è tutto mi raccomando se vuoi ricevere a casa questo fantastico asciugamano più borsa e trusse scrivimi qui sotto oppure su whatsapp grazie per essere state con me io vi aspetto in un prossimo video ci vediamo qui su youtube o su instagram se ancora non mi segui su instagram mi trovi su cristina.verone e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao